come definito all'articolo 6, al fine di permettere una continuità di scambi nei due sistemi formativi, garantendo effettivi benefici che sono rilevabili, soprattutto a lungo termine. Signora Presidente, seppur sinteticamente e tralasciando gli aspetti più tecnici, penso di aver evidenziato le ragioni che spingono il mio gruppo parlamentare ad annunciare il voto favorevole, convinti della necessità di una rapida approvazione del provvedimento di ratifica. Grazie, onorevole Nissoli. È scritto a parlare il deputato Borghesi. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. Con l'accordo bilaterale che è sottoposto oggi all'esame della nostra Assemblea, Italia e Federazione Russa si riconoscono reciprocamente la validità dei titoli di studio rilasciati dalla controparte, agevolando l'inserimento del mondo del lavoro delle persone più qualificate delle rispettive nazionalità a livello loro più appropriato. Dovrebbero essere facilitati anche gli scambi accademici e le collaborazioni tra le università, dischiudendo ai nostri studenti e dai talenti del nostro Paese maggiormente interessati la via di un'integrazione della propria preparazione in Russia. Occorre sottolineare come l'idea di giungere ad un'intesa in questa materia, si è assorta nel corso di un vertice bilaterale italo-russo risalente al 2003, quando le prospettive di sviluppo delle relazioni tra il nostro Paese e la Russia erano particolarmente buone. Desideriamo ricordare come i governi in cui la Lega era parte diedero impulso particolare all'intensificazione dei rapporti con Mosca. Tuttavia, questo indirizzo non è venuto meno neanche nei periodi in cui il centro-destra ha dovuto passare la mano. I negoziati finalizzati al raggiungimento di questo accordo sono infatti proseguiti senza risentire particolarmente del cambio di maggioranza nel nostro Paese, giungendo infine alla firma nel 2009. Noi crediamo fortemente nell'utilità di questa intesa, credendo che l'attuale fase di innaturale strozzatura delle relazioni tra il nostro Paese e l'Europa più in generale da un lato e la Federazione russa dall'altro debba essere superata quanto prima. Nel frattempo, con il reciproco riconoscimento dei titoli di studio, prepariamo il futuro. Per questi motivi annuncio il voto favorevole dal gruppo della Lega Nova. Grazie, onorevole Borghesi. Ha scritto a parlare il deputato Tancredi. Prego, ne ha facoltà. Sì, Presidente, molto brevemente. Si tratta di un accordo fatto a Roma il 3 dicembre 2009, come è stato già detto, e finalizzato a disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso della prosecuzione degli studi e delle istituzioni universitarie dell'altro Paese. Non credo sfugga a nessuno l'importanza dei rapporti culturali con la Federazione russa, che sono attualmente in realtà disciplinati da un accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione firmato il 10 febbraio 1998 a Roma. L'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio consentirà agli studenti di una delle due parti, in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori, di essere ammessi all'istruzione universitaria dell'altro Stato contraente, eventualmente premi e esami di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. L'importanza, appunto, riguarda la collaborazione culturale e gli interscambi, che tra studenti sono importantissimi e sono la base anche degli scambi commerciali e culturali fra i Paesi. è bene ricordare che il numero degli scambi studenteschi in questo momento in esistenza in Italia non è rilevantissimo, ma si tratta pure di qualche migliaia di studenti russi che sono nelle nostre università, circa duemila, è di una buona qualità.